Continuiamo nello studio dell'impedenza dei componenti passivi fondamentali. Ci rimane da vedere il condensatore C. Quindi sia il condensatore C attraversato da una corrente I, che indichiamo con questo verso, rispettiamo la convenzione sui segni e avremo che la tensione V ai capi del condensatore avrà il più dove entra la tensione I, l'impedenza per un condensatore è espressa dalla legge di Ohm generalizzata, quindi dal rapporto fra tensione e corrente, che per un condensatore è data dal valore 1 fratto JωC, dove C è la capacità del condensatore in Farad. Quindi si tratta di un numero complesso, abbiamo una frazione, quindi eliminiamo la parte immaginaria dal denominatore moltiplicando per J il numeratore e il denominatore della frazione, abbiamo J a numeratore, al denominatore J per J meno 1, quindi rimane meno ωC, quindi in definitiva l'impedenza è uguale a meno J 1 fratto ωC, quindi un numero immaginario puro con la parte immaginaria negativa. Ricordiamoci ωC è la pulsazione che è legata alla frequenza delle alimentazioni nel nostro circuito dalla relazione 2πf, questa è la relazione fondamentale che lega pulsazione e frequenza. Vediamo adesso quindi cosa comporta questa impedenza tra tensione e corrente di un condensatore. Legge di Ohm generalizzata, la tensione data dal prodotto dell'impedenza Zc per la corrente I, quindi esprimiamo i due numeri complessi in forma polare, quindi Zc, anzi angolo caratteristico φ con C per l'impedenza, è corrente di modulo I e fase φ con I generica. Il valore dell'impedenza quindi è 1 fratto ωC fase meno π mezzi, essendo un numero immaginario puro negativo, quindi possiamo sviluppare il prodotto dei due numeri complessi, come prodotto dei moduli, quindi 1 fratto ωC per l'impedenza, ancora con la sua fase meno π mezzi, moltiplicato il modulo della corrente I con la sua fase φ con I, quindi ricordiamoci che nel prodotto abbiamo il prodotto dei moduli, quindi modulo di I fratto ωC è fase la somma delle fasi, quindi φ con I meno π mezzi, che è la fase, anzi l'angolo caratteristico dell'impedenza del condensatore. Rappresentiamo su un piano di Gauss questi due fasori tensione e corrente, quindi asse dei reali e asse degli immaginari. Iniziamo dalla corrente, supponiamo che sia questa il fasore, il fasore I con un angolo di fase φ con I generico, in questo caso un valore positivo. Dalla relazione appena vista della tensione, avremo che il fasore della tensione è un fasore che ha uno sfasamento di meno π mezzi rispetto alla fase della corrente, perché abbiamo visto che la fase della tensione è φ con I meno π mezzi, quindi quel meno π mezzi è questo, quindi l'angolo di rotazione del fasore della tensione rispetto a quello della corrente di meno π mezzi, quindi inverso orario, e quindi la fase del fasore della tensione φ con V sarà questa, in questo caso una fase negativa data dalla differenza tra la fase della corrente e π mezzi, che è appunto l'angolo di sfasamento tra i due vettori. vediamo adesso come varia l'impedenza del condensatore al variare della frequenza. Facciamo una tabella in cui rappresentiamo la frequenza al valore 0, poi un altro elemento della tabella a frequenza genericamente bassa, relativamente bassa, un altro a frequenza relativamente alta e poi al termine la frequenza matematicamente di valore infinito. Abbiamo che l'impedenza del condensatore è data dal rapporto 1 fratto ωc, questo è il modulo. Quest'impedenza, quindi, si vede ω al denominatore, quindi 2π per f al denominatore, questo vuol dire che quando f è uguale a 0 diventa 0 il denominatore e quindi la nostra impedenza assumerà il valore matematico di infinito. Viceversa, per f è uguale a infinito, il denominatore diventa infinito e l'impedenza è 0. Per frequenze relativamente basse, quindi avremo un'alta impedenza, l'ω è al denominatore, per frequenze relativamente alte, una bassa impedenza. Quindi possiamo vedere la generica impedenza del condensatore e vedere che per frequenze 0 questa impedenza ha valore infinito e quindi si comporta come se si trattasse di un circuito aperto, quindi un circuito che impedisce il passaggio di corrente. Un condensatore a frequenza 0 si comporta come un circuito aperto. Viceversa, frequenze infinite, matematicamente, quindi molto elevate, l'impedenza del condensatore tende a 0 e quindi tende a comportarsi come un cortocircuito. Quindi a frequenze relativamente basse tendiamo al circuito aperto, a frequenze relativamente alte al cortocircuito.